Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap urlanti annunceranno l'arrivo in stazione in corso una gigantesca eruzione solare e gli astronomi non capiscono perché il sole si stia eccitando così tanto Facebook ripristina il tasto condividi era stato sostituito da file circolare ma per il social network pagare tutti quei vigili era troppo dispendioso Kenya dato per morto apre gli occhi si alzi in piedi i core gridando non posso arrivare in ritardo al lavoro prenderò l'autobus al volo Hugh Jackman sarà il pirata barbanera in un film su Peter Pan non lo sappiamo ma Brad Pitt ha accettato di interpretare Tarzan in un film su Pippi Calzelunghe Cuba, Fidel Castro riappare in pubblico dopo nove mesi con in braccio un bambino quel bimbo ha le tettine Peppa Pig, la magliorina rosa conquista i bambini italiani annunciata a breve l'invasione della Polonia alla prossima settimana swish